Ragazzi vi è tornato in questo nuovo video Sono qui, stavo passeggiando in Busou E vedo un giardino dove mia mamma si giocava quando era piccola Ci sono praticamente tutti gli animali del mondo Parla così veloce perché ho paura che la mucca mi rompa qualcosa Appunto, mucca e cavallo e pecore e cani Vabbè C'è la mucca C'è il cavallo Ci sono i cani E andiamo lì sopra e ci sono anche le pecore Sofia, questo ti piacerà Raga, io potrei mettermi sopra di lui Però sto morendo della paura, anche lui ha paura Quindi non mi metto sopra di lui E ho molta paura Il loro padrone dice Il nome alla pecore è la pecore a me Non so se sentite ma c'è un campanello Io lo sentivo Ma sono finite queste cose Mi sembrava no troppo poche Mi sembrava no troppo poche E? No La ora è a meo Dalla, el lo stiu ma Caz Ma Caz Ma Caz E da shock Se vi chiedete perché il cane ha un occhio azzurro e l'altro rosso, è perché si è lottato contro un orso. Convinto a te. Ma sono tantissime! Saranno almeno una centinaia! Vicino. Però dieci supera. Ma è molto seppare con le pesasciate. Oh, a te non ti ho visto. Non ho filmato, ma c'è il cane che si è correntato. Ed è corso! Di queste si è correntato. C'è un'altra lieve, la faccio vedere adesso. E questa è la mucca che vi dice... Mio papà sembra una formica di fronte a quell'albero. Tati, sembra una formica! Tati, sembra una formica! E frumos! E' un'altra lieve. Tanti le amato. La mia rossa è la prima fattare che avevo fatto. Ho andato. E' caffie, e la fatture, ibarci, ibarci și le expreszioni... Sembra un piede di qualcosa, non so cos'è. Questa è la natura in Romania, e volevo dirvi che siamo la Buzou, ma come avete visto nel titolo, la natura in Romania, perché questa è la natura in Romania, cioè, questa è cosa che si vive in Romania, cioè, è difficile avere un appartamento in Romania, perché è questa, la vita qua. Quando c'è la mucca a cavallo eravamo molto più giù, adesso non si vede bene perché ci sono molti alberi, però abbiamo camminato tantissimo per arrivare qua. Se notate quanto freddo c'è, io ho una maglia leggera, ma maniche lunghe, e sopra una maglia, questa sembra leggera, ma è molto pesante, cioè, guardate, è della puma, ospè, ospè, che il video vi sia piaciuto, e ciao!